Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale. Prima di immergerci nella puntata di oggi, vi invitiamo a premere il tasto iscriviti e a lasciare un mi piace per non perdervi le nostre prossime pubblicazioni. Attivate anche le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille per il vostro supporto continuo. Nella giornata di martedì 12 dicembre 2023 è arrivata una notizia che ci tocca profondamente. Erano le 14 e proprio in quel momento Milo Infante, il noto conduttore televisivo, ha aperto la trasmissione ore 14 con un annuncio che ha gettato un'ombra di tristezza sul programma. Ci teniamo a condividere questa informazione con voi, poiché sappiamo quanto sia importante restare uniti anche nei momenti difficili. Oggi una figura chiave del programma, Roberta Bruzzone, non è stata presente. La causa, come ha rivelato lo stesso Milo Infante, è una grave perdita personale che la sta colpendo profondamente. Infante ha espresso, a nome di tutta la squadra e del pubblico, un caloroso abbraccio e la vicinanza a Roberta in questo momento di grande dolore. Roberta, conosciuta per la sua forza e energia, ha dovuto affrontare una tragedia personale, la perdita di suo padre. Questa notizia è stata confermata da un altro ospite del programma, Monica Leofreddi, che ha rivelato di aver parlato con Roberta al telefono questa mattina. Monica ha descritto un'emozione palpabile nella voce di Roberta, un segno del profondo impatto che questa perdita ha avuto su di lei. Roberta Bruzzone, nota criminologa e volto amato del programma, ha condiviso la notizia del decesso di suo padre sui social media, accompagnando l'annuncio con un messaggio commovente e una foto che li ritrae insieme in un ristorante. Il messaggio «Ciao papà, grazie di tutto» è una testimonianza toccante del loro legame e del dolore che Roberta sta vivendo. La reazione dei suoi follower è stata immediata e commovente, con tantissimi commenti di cordoglio e parole di conforto. La comunità online si è unita nel sostegno a Roberta, dimostrando quanto l'affetto e la solidarietà possano essere forti anche attraverso i social media. Vogliamo dedicare un momento a riflettere su quanto siano preziose le persone che abbiamo accanto e su come, anche nei momenti più oscuri, possiamo trovare conforto e sostegno nella comunità che ci circonda. In chiusura, vi chiediamo di condividere nei commenti i vostri pensieri su questa tragica notizia. Come vi sentite? Avete mai vissuto un'esperienza simile? La vostra partecipazione e il vostro sostegno sono fondamentali per noi e per tutti coloro che si trovano in momenti difficili. Grazie per essere stati con noi oggi. A presto.